All'inizio continuavo a dire, cerco qualcuno che mi tolga questo scudo di ghiaccio che fondamentalmente mi sono creata la sola. E tu piano piano ci sei riuscito. Io in ogni situazione ho sempre usato la mia testa, perché forse per paura di aprirmi, per paura di far vedere la vera me, per paura di starci male, non lo so. Però oggi ho detto che voglio usare il cuore e in realtà sono fortunata, perché ad oggi la mia testa e il mio cuore fanno un solo nome e quel nome è il tuo. Un abbraccio alla Maria. Sì, sì. Paolo. Matteo, ce l'hai? Quindi è un sì Matteo? Ah? Un sì? Sì. Birbn also. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti